Di Federico De Roberto, i vicere, voce di Lorenzo Pieri, libro primo, capitolo quarto, seconda parte. Raimondo non era ancora rientrato quando tutta la famiglia con l'assistenza di Don Mariano prese posto a tavola. Lucrezia aveva gli occhi ancora rossi, teneva il capo chino, non diceva una parola, ma il principe, fattosi improvvisamente sereno in vista, rivolgeva cortesie allo zio Duca. Tutti i giorni così, dopo lunghe ore di mutria, di silenzio, di voltate di spalle al sopravvenire dei fratelli e delle sorelle e più della cognata Matilde, egli smetteva a tavola la cera accigliata per corteggiare lo zio. Non era la prima volta che il desinare cominciava senza Raimondo e al malumore di Lucrezia faceva riscontro quel giorno un pensiero molesto sulla fronte della contessa Matilde. Non le facevano festa in quella casa. Il principe, donna Ferdinanda, don Blasco, un po' anche la cugina Graziella, dovevano trovare in lei colpe imperdonabili se la punzecchiavano assiduamente, se la trattavano senza riguardi. Ma ella perdonava le mancanze di riguardo e gli sgarbi fatti a lei. Non soffriva quelli che toccavano a suo marito. Forse era questa la sua grande colpa, l'amore che portava a Raimondo. Lo amava fin da quando lo aveva visto, da prima ancora, fin da quando, fidanzata per lettera a quel conte di Lumera, del quale suo padre, superbo di imparentarsi coi vicerei, le faceva lodi senza fine, e la aveva lavorato con la fantasia a rappresentarselo bello, nobile, generoso, cavalleresco come un eroe del tasso o dell'ariosto. E la realtà aveva superato le sue stesse immaginazioni. Tanto era fine lo sposo suo, eleggiadro ed elegante e splendido. Ed ella, che non aveva conosciuto da vicino altri uomini, che s'era nutrita unicamente di sogni, di poesia, di fantasia alta e pura, gli aveva dato tutta l'anima, per sempre. Lo aveva amato ancora nei suoi cari e idolatrato nella figlia natale da lui. Ella non aveva altra idea della vita che quella espressa dalla vita sua propria, semplice e piana, tutta trascorsa in mezzo alla sorellina Carlotta, alla mamma loro, suave ed amara ricordanza, e dal padre, uomo di passioni estreme, amico e nemico fino alla morte degli altri uomini, ma cieco e folle d'amore per le sue figlie. Mentre ella adesso si voltava ogni tratto a guardar l'uscio della sala, con l'ansiosa aspettativa dell'arrivo di Raimondo, la scena che aveva dinnanzi le rammentava con un effetto di vivo contrasto un'altra, indelebilmente fitta nella sua memoria. La sua memoria le rappresentava il desco familiare, nella grande stanza da pranzo della casa paterna a Milazzo. La mamma, la sorella, ella stessa intente ai racconti del padre, sorridenti con lui, con lui tristi o dolenti, il padre tutto loro, coi pensieri e con le opere, e un costante e quasi superstizioso rispetto per le antiche abitudini, e una pace patriarcale, un amore reciproco, una confidenza assoluta. Se ella si guardava ora intorno, che vedeva? La principessa, timida e paurosa dinnanzi al marito, il ragazzo tremante a un'occhiata del padre, ma superbo dell'umiliazione inflitta alla zia. Lucrezia e il fratello ancora freddi e sospettosi l'uno verso l'altra, il principe ostentante il buon umore col duca dopo una giornata da cigliato silenzio. Ella neppure sospettava le passioni che dividevano quella famiglia il giorno che vi era entrata come in un'altra famiglia sua propria. Tanto più grande era stato il suo stupore, il suo dolore, nel vedere di che sordo astio la ripagavano. Giudicavano certo che fosse indegna di Raimondo perché a lui inferiore, e nessuno quanto lei stessa lo metteva tanto alto, ma non le aveva giovato sentirsi e farsi umile dinnanzi a lui e ad essi. L'astio non s'era placato. Allora ella aveva cominciato a comprendere le particolari passioni che, oltre all'orgoglio, animavano ciascuno di quegli uzzè da duri e violenti. La madre di Raimondo per idolatria del figlio era gelosa di lei. Riuscita ad ammogliarlo, ad assicurargli la dote, aveva umiliato la nuora, facendole sentire fin dal primo giorno la sua mano di ferro perché più d'ogni altro, ella stesse sommessa dinnanzi al beniamino. Ma la sommessione idolatra, il cieco affetto della sposa, togliendole ogni pretesto di incrudelire su lei, mettendo nuova esca al fuoco della sorda gelosia materna, l'aveva resa implacabile. Il fratello maggiore, non perdonando a Raimondo i suoi privilegi, non potendo rassegnarsi alla concorrenza che la famiglia di lui faceva alla propria, rovesciava il suo rancore sulla cognata. Tutti gli altri erano stati senza pietà per l'intrusa, o in odio alla principessa che l'aveva voluta in quella casa, o in odio a Raimondo, che la madre proteggeva. Così ella si era vista a bersaglio di quei parenti, ai quali era venuta con animo confidente e cuore affezionato, e lo scoprire che il loro astio era tanto acre contro di lei quanto contro Raimondo, invece di attenuare, aveva inacerbito la sua pena, poiché perduta d'amore pel marito, ella soffriva e gioiva in lui e per lui. In quello stesso momento che il principe pareva non vederla cognata, o se volgevasi dalla sua parte, smessa ad un tratto la cera gioconda, le mostrava un viso contegnosamente chiuso, peggio che se ella fosse una estranea. Ella non soffriva tanto di quell'ostentata freddezza, quanto della trascuranza da tutti dimostrata verso suo marito. Il desinare progrediva come se egli non dovesse venire più. Nessuno chiedeva di lui. Lucrezia teneva ancora il capochino sul desco. La principessa badava a suo figlio. Il principe parlava dello stato delle campagne, dei prezzi delle derrate, dei pericoli del colera. Il duca discuteva della guerra d'Oriente e solamente un estraneo, Don Mariano, diceva tratto tratto, e Raimondo, non si vede più che gli è successo. Allora, come per virtù dell'eco, quella domanda si ripercoteva nel pensiero di lei. Non si vede più che gli è successo. Perché mai tardava tanto? Perché la lasciava sola tra quegli estranei, indifferenti ed ostili. I russi resistono ancora, un osso duro da rodere. Napoleone ne seppe qualcosa. Di nuovo assorta in pensieri più gravi e molesti, ella udiva brani di frasi, parole di cui non afferrava il senso. Da quanto tempo la lasciava sola Raimondo, da quanto, da quanto. Ella rammentava assiduamente la prima pena che egli le aveva fatta, tanto tempo addietro. Buono con lei nei primi tempi del matrimonio, durante il viaggio di nozze e il soggiorno di Catania, appena giunto a Milazzo, dove erano andati per affari, per vedere il padre e la sorella di lei, egli aveva dichiarato di non aver preso moglie per vivere in quella bicocca, per incappare nella tutela del suocero dopo essere uscito da quella della madre. Certo, ella non credeva che la vita nella sua cittadina natale potesse allettarlo molto, certo lo avrebbe seguito dovunque gli sarebbe piaciuto condurla. Non di meno quel brusco giudizio intorno a cose e persone care al cuor suo le aveva procurato un senso d'angoscia indimenticabile. Egli voleva lasciare per sempre la Sicilia, andarsene a vivere a Firenze, né la contraria volontà della madre, gli era d'ostacolo. Alla moglie, che per non discostarsi troppo dai suoi gliela rammentava esortandolo ad obbedirla, rispondeva bruscamente «Lasciami fare a modo mio!». Ed ella, sì, aveva riconosciuto le sue ragioni. La Sicilia, la Toscana, qualunque parte del mondo dove sarebbero stati insieme felici, non doveva essere tutt'uno per lei. Il dispotico divieto della suocera poteva avere maggior peso per lei del desiderio del marito. E quel desiderio non era forse legittimo. Il suo Raimondo non era chiamato a figurare in mezzo alla società più eletta di una grande città. Giovani e ricchi non sarebbero stati dovunque segno all'invidia di tutti. Ed ella non aveva perseverato nei tentativi di resistenza anche per un'altra ragione, più grave. Raimondo, del quale ella perdonava, anzi neppure vedeva i modi un po' bruschi, l'insofferenza della contraddizione, tutti i piccoli difetti di un figliuolo troppo vezzeggiato, si mostrava qual era anche col barone. Il carattere di questi essendo pure molto forte, un dissenso poteva sorgere da un momento all'altro. Sulle prime il barone aveva fatto una vera festa al genero, trattandolo quasi come la principessa, sedotto anche lui dalla grazia fine del giovane, inorgoglito dalla fortuna di essersi imparentato coi francalanza. Ma Raimondo aveva risposto a tante prevenzioni zelanti, a tante cure affettuose, mostrandosi malcontento di tutto in quella casa, ripetendo ogni quarto d'ora come si fa a vivere qui. Il barone aveva da lui la procura per amministrare le proprietà date alla figlia, e in questa amministrazione intendeva seguire i criteri e i sistemi antichi dei quali sapeva la bontà. Raimondo, invece, per occupare gli ozzi di Milazzo, quando non passava le intere giornate giocando al casino con gli scapati presto conosciuti, si faceva rendere conto dal suocero dei suoi provvedimenti, per biasimarli, per suggerir quelli che a suo giudizio bisognava adottare. In questa materia egli dimostrava un'assoluta ignoranza degli affari, una stravaganza di concetti molto simile a quella del fratello Ferdinando. Il barone ne rideva, egli se l'aveva a male. Le parti si invertivano quando il barone gli chiedeva conto dell'impiego dei capitali dotali. Allora egli biasimava certe operazioni bislacche del genere. Questi dichiarava al suocero che non ci capiva nulla. Spesso in quei dibattiti, alle uscite vivaci di Raimondo, il barone faceva un visibile sforzo per contenersi, per non dargli sulla voce. Allora Matilde interveniva, mutava soggetto al discorso componendo il lieve screzio coi sorrisi prodigati ugualmente alle due persone che più amava al mondo. Il suo grande dolore fu perciò nell'accorgersi che se voleva vederle in pace, le conveniva evitare che stessero a lungo insieme. Decisa così a secondare il desiderio del marito, ella lo aveva seguito a Firenze. Ma quest'ultima risoluzione di Raimondo era stata causa della più viva opposizione del barone, che voleva vicino alla figlia, e giudicando troppo costosa la stabile dimora in una grande città, consigliava piuttosto brevi viaggi. Raimondo gli aveva risposto seccamente che quel consiglio era stupido, perché i viaggi appunto costano un occhio del capo, e lasciando in asso il suocero, aveva dichiarato alla moglie con brutte parole, troppo dure, ingiuste anche, di non voler più soffrire l'ingerenza di lui negli affari propri. Allora, per vincere l'opposizione del padre, ella aveva dovuto ricorrere all'espediente di cui si era avvalsa tante volte, bambina, dirgli che il disegno di vivere un pezzo in Toscana era caro a lei stessa, e pregarlo di farla contenta. Quattrini e vite sprecate, la guerra a tanta distanza. Mentre il duca continuava a sviscerare la questione d'Oriente e a proporre combinazioni diplomatiche, tutti si volsero verso l'uscio d'entrata. La contessa sussultò, sperando che fosse suo marito. S'avanzava invece cerimoniosamente Don Cono Canalà. Si aprò a ciascuno, ma non veggio il continuo. Così, così a Firenze, in una città dove nonché un parente, non aveva da principio neppure una conoscenza. Ella era rimasta lunghissime ore, tanti e tanti giorni, ad aspettarlo in vano. Lì aveva pianto le sue prime lacrime, quando s'era vista trascurata. Lì s'era nascosta per piangere, già che egli o la derideva per quella stupida affezione, o dichiarava di non voler essere seccato. Avevano un modo radicalmente diverso di intender la vita. Mentre ella metteva innanzitutto l'affetto di suo marito e le gioie della famiglia, e non desiderava se non prolungare al fianco di Raimondo, sia pure in altri luoghi, l'ineffabile felicità domestica provata da fanciulla, il giovane, viziato dalle preferenze della madre e finalmente uscito dalla sua ferrea tutela, aspirava unicamente ai liberi piaceri mondani. E per questo, dicendo a se stessa che egli aveva diritto di divertirsi, che non faceva poi nulla di male, che i gusti delle persone sono naturalmente diversi, ella aveva represso il proprio dolore, si era persuasa del proprio torto. Quasi premio di questa sua rassegnazione, aveva finalmente provato le ineffabili gioie della maternità. E allora, come per incanto, i tempi felici della luna di miele parve tornassero, tra perché Raimondo divenne veramente migliore, tra perché ella stessa, assorta in soavi pensieri, in cure minute, pose meno mente alla vita di lui. Al padre, che la raggiunse in quell'occasione, ella pote mostrare un viso raggiante di gioia. Felice e con lei, il barone dimenticò interamente le piccole liti avute col genero, tornò a volergli bene come ai primi tempi. Tutti aspettavano un maschio, tranne lei stessa che, se avesse osato contrastare i desideri altrui e far differenze tra i figli, avrebbe preferita una bambina. Una bambina nacque, infatti, e quando si trattò di battezzarla, quantunque ella e il padre avessero desiderato chiamarla come la loro cara perduta, riconobbero tuttavia la convenienza di darle il nome della principessa. Rammentava forse più la madre felice i trattamenti sgraziati della suocera e della parentela. Quell'angioletto, venuto a ristringere il nodo che la univa a Raimondo, a dissipare le nubi che minacciavano il suo bel cielo, non parlava unicamente di pace e d'amore. Ahimè, più presto che non credesse, ella si era accorta del proprio inganno. Già da quando erano venuti a Firenze, la suocera non le aveva più scritto né risposto alle sue lettere né accennato a lei nelle lettere che mandava al figliuolo. Il silenzio continuò durante la gravidanza e dopo il parto comprese anche la bambina. Quando Teresina fu svezzata, Raimondo deliberò di fare una corsa in Sicilia e da quel viaggio ella ripromettevasi la fine dell'incomprensibile rancore della principessa. Invece, ella ricominciò a piangere allora. Donna Teresa Uzzeda, non potendo prendersela con Raimondo per la dimora da questi stabilita a Firenze, ne aveva rovesciato la colpa sulla nuora. La sua gelosia e il suo odio si erano raddoppiati, le facevano una colpa perfino della nascita della bambina. Come dimostrare a quella spietata il suo torto? Come persuaderla che suo figlio, contro il piacere di tutti, aveva voluto a forza fare quel che si era proposto? Ingenuamente, il barone non aveva detto che Raimondo era andato in Toscana per far piacere a Matilde. Ella aveva così apprestato, senza saperlo, una nuova arma alla suocera. Per ottenere l'accordo fra il marito ed il padre, aveva scatenato quella furia contro se stessa.